Non è stata probabilmente la gara spettacolare che molti avevano pronosticato, ma Recanatese e Pineto non ha deluso le attese ed il verdetto conclusivo di parità è giusto ed in fondo non dispiace a nessuno. Gli abruzzesi hanno accarezzato l'idea di portarla a casa visto il loro vantaggio, ma a ben vedere, nel computo delle occasioni, i giallorossi hanno fatturato di più ed hanno impattato con una prodezza su punizione di senigalliesi. Anche a livello di recriminazioni siamo pari, gli ospiti hanno protestato su un episodio dubbio al limite dell'area in zona Cesarini, ma è pur vero che al 95esimo Sopranzetti ha avuto sui piedi il pallone della vittoria, dunque l'1-1 finale non fa una grinza e soprattutto certifica che le due squadre possono competere ad alti livelli in una stagione appena agli albori. L'allenatore ospite Marco Pomante. Mister, come giudica questo pareggio? Voi avete accarezzato l'idea di portarla a casa, poi siete stati raggiunti da quella punizione a dieci minuti dalla fine. Un pareggio secondo me è giusto. Il primo tempo è giocato bene dalla parte dell'area canetese, il secondo tempo ci siamo messi a specchio, abbiamo limitato il loro gioco, abbiamo creato di più, abbiamo giocato meglio e siamo stati un po' sfortunati nell'episodio del pareggio loro perché da quello che mi dicono i ragazzi la punizione non c'era però al di là di tutto un pareggio giusto perché abbiamo incontrato una squadra forte su un campo importante e va bene così. L'aspettavo almeno personalmente una partita diversa, forse più spettacolare? Io lo so ma la Serie D è questa, si incontravano oggi due squadre forti, due squadre forti che giustamente hanno pensato a volte anche a difendere, a mantenere il risultato, a cercare di limitare un po' l'avversario però secondo me è uscita una bella partita, è normale, non sono stati tanti gol però una partita è una partita buona. A suo avviso quando si delineerà un po' di più la classifica in questo mare magnum al vertice? Ma secondo me è ancora presto, è ancora presto, dovrà finire il giorno d'antate e lì un po' ci rendiamo conto delle potenzialità delle squadre, è più che alto della classifica. Oggettivamente la prima ora di gioco non è stata scintillante, meglio è l'aria canatese contro gli ospiti, guardinghi ed attenti in difesa. Così la cronaca è scarna e senza opportunità di grande rilievo. Ci prova Gomez in avvio dopo una combinazione con Sbafo ma il suo tiro angolato ma debole è bloccato da Mercorelli. Poco dopo azione insistita di Minicucci al limite, scarico per Raparo con tiro non lontano dall'incrocio dei pali. Molto insidioso invece alla mezz'ora il traversone tagliatissimo di Minicucci sul quale Giampaolo non ci arriva davvero di un niente. Al trentaseiesimo lungo cross di Barlafante a cercare esposito, conclusione morbida che si perde sul fondo senza creare problemi. Riprese invece più vivace, al decimo Giampaolo riesce a mantenere il pallone in campo, si mette in proprio, va al tiro che sfiora il montante. Al sedicesimo ospiti in vantaggio, Angolo battuto dall'ex Pezzotti, uno specialista, svetta Cardella di testa che anticipa tutti e batte Remo Amadio. Al ventiseiesimo c'è una punizione di Minincleri con il portiere che si allunga e riesce a deviare in corner. Gli ingressi di Defendi e Senigalliesi però danno grande linfa alla Recanatese che pareggia al trentatresimo con una punizione magistrale proprio di Senigalliesi che trova l'angolino giusto con la barriera a non più di cinque metri. Nel quinto dei sei minuti di recupero Minicucci che ancora gamba si fa largo sulla sinistra e crea lo spazio per il tiro di sopranzetti dal limite che si perde sul fondo. Grande fair play prima della gara ed anche al triplice fischio pareggio equo tra due delle migliori squadre di questo raggruppamento, l'analisi di Giovanni Pagliari. Giovanni è un pareggio direi da non disprezzare no? No no ma soprattutto la squadra ha confermato che c'è, un bel atteggiamento dall'inizio abbiamo provato in certi momenti anche a giocare a calcio con una squadra forte però non siamo stati inferiori, anche inferiorità numerica, chi è entrato ha fatto bene, scusa la inferiorità numerica, sotto di un golle, l'atteggiamento mi è piaciuto, sono soddisfatto, la strada è quella buona e quella giusta, dobbiamo subitare allenarci e giocarcela con tutti come abbiamo sempre detto. Senti l'ho detto anche a Pomante, tra l'altro un tuo ex giocatore, io personalmente mi aspettavo una partita più spettacolare oppure ha prevalso anche la voglia di stare attenti, di essere giudiziosi e guardinghi soprattutto nella prima ora di gara? Ma sai queste sono anche partite molto tattiche dove sei condizionato anche dell'atteggiamento tattico degli altri, sei preoccupato a non prendere golle e sbagliare di meno perché sai che al primo errore puoi essere punito, però io penso che per la categoria, perché Andrea non ci dimentichiamo la categoria, tanto spettacolo non lo vedo, io vedo che invece questa è una buona gara per la categoria, una buona partita con buone giocate ed è normale che in questo caso qui prevale sempre a volte più la paura di non perdere che di vincere anche nei giocatori. Però contro una big del campionato l'aricanatessa ha dimostrato di essere molto competitiva? Sì sì, poi ripeto, io non credo molto che ci sia, sicuramente ci sono delle squadre fortissime come il Pineto, il Trastevere che verrà domenica e il Fiugi, però io penso che i miei ragazzi se la possono giocare la grande perché noi abbiamo un gruppo di ragazzi seri che si stimano, che lavorano bene e poi la lunga più che i nomi secondo me fanno bene queste squadre qui, queste che hanno gruppo.